Salve amici dell'incazzato.it, oggi troviamo insieme a Nicola Gianniello, presidente dell'associazione di volontariato Siloe. Ciao Nicola, di cosa trattate nella vostra associazione e quali sono le vostre attività? L'associazione Siloe è un'associazione nata con semplicità, dalla volontà di mettersi insieme con le proprie risorse integrate e trasversali, anche di diverse generazioni, di persone che vogliono darsi e dedicare tempo al prossimo. La nostra sede operativa è la strada, quindi operiamo per i vicoli di Napoli, centro in particolare e dintorni. Il soggetto oggetto del nostro operato è il senza di mura, una categoria abbastanza ampia, che comprende un'ampia categoria di persone indigenti, che vanno dai tossicodipendenti, dal barbone, in quanto barbone intesa per i generis, da fino a questo tempo, dalle prostitute, dall'immigrato, dall'extracomunitario e anche dalle famiglie sfrattate napoletane. regoliamo questa nostra attività attraverso risorse proprie, quindi operiamo con un menu alimentare che prepariamo nelle nostre famiglie e da chi da anni è volontario indiretto e non diretto come noi per strada, ma che ci prepara il materiale per andare a contattare queste persone di strada e sostenerle nell'assistenza di prima necessità, che è un pasto caldo, il panino, dall'acqua al dolce. Questo contatto che noi abbiamo con queste persone è un contatto che mira ad un'assistenza morale, umana e fisica. Non intendiamo cambiare la vita di queste persone, né tantomeno intracciare il loro contesto, la loro dimensione umana, ma semplicemente fargli capire che ci siamo, perché noi ci rendiamo conto che nonostante siamo in due livelli di dimensioni differenti, li consideriamo uguali. Non li trattiamo come persone che hanno necessità diverse dalle nostre, semplicemente dal fatto che abbiano avuto degli accadimenti precedenti nella loro vita che hanno portato a mirare su una vita abbastanza precaria. In questo senso il nostro atteggiamento è quello di accompagnamento e di amicizia. Poi, una volta inserito in questo contesto di fiducia del volontario con il senza dimora, riusciamo ad ottenere un percorso insieme, non attraverso le nostre risorse che non sono affatto professionali, perché i volontari di Siloe sono persone semplici, giovani e adulti, che mettono soltanto la volontà, la propria esperienza, la propria capacità. Quindi ci rivolgiamo alle strutture e le istituzioni che sono presenti sul territorio e per quanto possono fare e insieme, in sinergia, cercare di accompagnare questa persona nei suoi bisogni anche attuali, senza ovviamente presunzione. Questo ci dà il senso di stare per strada perché si crea quello che tu potresti creare con un semplice amico, ovvero una relazione di fiducia e di rispetto e di stima, con tutti i nostri sbagli e con tutti i nostri errori. Però il fatto di esserci, di essere presente nel tessuto sociale napoletano, nel nostro quartiere, dove è visibile l'indifferenza e l'emarginazione di chi sta sul marciapiede o comunque di chi sta in disparte dall'antirivieni della società e della civiltà professionale borghese e napoletana, soprattutto quando magari si passa per andare a lavoro alla stazione Garibaldi, si può notare con maggiore frequenza questo tipo di discorso che ho approcciato di fare. Noi vogliamo esserci, vogliamo esserci in quanto persone. Quale iniziative avete in serbo per i vostri assistiti? Le iniziative che ne abbiamo per loro sono due fondamentali durante l'anno, che sembrano diversivi, magari servono a poco, però noi intendiamo fare le cose con loro, non pensare per loro. Per cui abbiamo due importanti eventi che almeno per noi, di Sile, sono importanti e che abbracciano tutte le persone di strada che noi conosciamo, ma soprattutto di quelli che si sono instaurate le relazioni di fiducia. Li accompagniamo a fare una visita, una gita estiva, nel mese di giugno-luglio e li portiamo fuori in una gita vera e propria, con menù completo, con giochi e con una gita fuori casa. Loro ovviamente vengono accolti in pullman preso da noi, i 52 posti, e vengono portati in un parco a Benevento o comunque in altre zone dove riteniamo per loro essere una giugnata molto diversa, soprattutto di dignità. Staccare con la routine dell'elemosina o la routine della richiesta dell'assistenza forzata, ma abbracciare qualcuno che gioca, pensa e discute con loro come persone semplici. E poi a gennaio, nella Befana, da che sappiamo che sul territorio napoletano ci sono altre associazioni e altri movimenti, ci sono anche dei gruppi volontari, come era stato all'inizio Siloe, che si muovono per loro con delle cino, con delle attrazioni. E noi il 6 gennaio, che è il giorno della Befana, dell'Epifania, ci rechiamo in una delle strutture parrocchiali di nostra conoscenza, ora Giuliano, ora Fadafragola, e stiamo con loro facendo una giornata intera, cercando di intrattenirci con balli, con giochi, anche con dei regali, non facendo mai mancare il menù completo che per loro è segno di convivialità. Altre attività sono legate a vera e propria assistenza. Ci sono alcuni volontari di Siloe che si muovono il sabato per la quarta divisione del Contugno, ospedale infettivologico di Napoli, dove abbiamo comunque in carico ragazzi tossicodipendenti, in stato ovviamente anche terminale, dove noi ci prendiamo cura della loro necessità primaria, che è quello ovviamente di essere vestiti, di essere curati e poi una volta usciti, in caso in cui la persona indigente necessiterebbe di un percorso di recupero dalla tossicodipendenza, Siloe ha diversi contatti con le comunità di tossicodipendenti nella regione Campania, attraverso le quali si possono comunque fare delle belle cose e ci sono state anche belle gratificazioni, intanto per Siloe che si impegna, ma soprattutto per loro che sono riusciti ad uscire dal turno della droga, anche se magari parzialmente, ma comunque è stata una bella esperienza, un bel cammino faticoso insieme. Facciamo altre attività come quello dell'accompagnamento assistenziale e sociosanitario, che prevede l'accompagnamento della persona indigente incontrata per strada, di solito il giovedì, che è il nostro giorno chiamato all'apostolato, che scendiamo per strada a fare il nostro servizio e l'accompagniamo eventualmente ai pronti soccorsi, eventualmente ci sia un'emergenza di carattere fisico e patologico e dopo ovviamente la presa in carico di questa persona quando presenta delle problematiche anche di deambulazione, quindi anche delle problematiche in cui necessita un'operazione chirurgica, quindi l'assistenza anche di notte, una presa in carico un po' totale della persona indigente di strada. Poi le nostre iniziative che ci riguardano forse un po' più da vicino in quanto famiglia, siamo iscritti al CAIR, che è un istituto caritatevole della Caritas di Napoli, attraverso il quale riusciamo ad ottenere le derrate alimentari, quindi siamo iscritti a questo ente e con queste derrate alimentari riusciamo a sostenere circa 60 famiglie nell'interno napoletano, famiglie precarie, arredito zero, persone che ci vengono a chiedere, anche con una certa vergogna e con reticenza per non essere così visibili, non rendere così visibili le loro condizioni di precarietà, il parco Spisa. Quindi ci mettiamo qui in sede ad Acerra a preparare circa 30, 40, 50 pacchi da distribuire nell'interlanda cerrano, napoletano centro storico e anche alle salicelle ad Afragula. Poi ovviamente ogni volta che si scende per strada ci si incontra un caso, da questo caso ovviamente possono nascere tante esigenze che si lo stesso non riesce o non mai avuto modo ancora di approcciare ma che attraverso la rete di conoscenze, di proprietà e di risorse proprie e private riesce a seguire. Uno dei casi più importanti di cui noi ci teniamo a portare avanti con le nostre semplici risorse è quello di seguire gli extracomunitari nel loro status, nella regolamentazione dello status sociale qui in Italia, quindi con un permesso di soggiorno, un'eventuale proposta di lavoro e un'integrazione vera nella nostra Napoli contro l'emarginazione, soprattutto magari il razzismo che alcune volte sembra incombere soprattutto nel target giovanile che è quello invece adulto.